Le conversazioni, le discussioni e i dibattiti che sentiamo tutti i santi giorni sono piene zeppe di errori logici madornali. La maggior parte di ciò che sentiamo dire nel corso delle nostre giornate altro non è che un'accozzaglia in forme di frasi e concetti completamente sconnessi fra loro e che non hanno alcuna logica o legame con la realtà. Per dirlo in altri termini, siamo circondati da stronzate estremamente rumorose che vengono rilanciate e ingigantite da una piccola elite di celtroni che spesso sono anche strapagati. Ma la cosa non finisce qui perché queste stesse stronzate, dopo essere state ingigantite e rilanciate dai celtroni vengono amplificate e propagate come onde radio da eserciti di esseri dei pensanti. E non nel senso che sono ritardati, anche perché molto spesso queste persone non sono affatto stupide è che semplicemente hanno la cattiva abitudine di non pensare di evitare con tutte le loro forze di fare un uso sensato dell'intelletto di cui sono naturalmente dotate. Quindi, se volete capire come non farvi prendere per il culo, questo è il video che fa per voi. Anzi, questo è il canale che fa per voi. Quindi, se ancora non lo siete, iscrivetevi per non perdervi nessun video. E ora iniziamo a parlare di fallacce logiche. Le fallacce logiche, dette anche sofismi, sono degli errori di ragionamento che portano a delle conclusioni errate o distorte. Si tratta di veri e propri errori strutturali nei processi argomentativi, che si manifestano nel momento in cui si utilizzano argomenti apparentemente validi, ma che contengono errori o che violano le più basilari regole della logica. Queste fallacce tendono a insidiarsi in discorsi apparentemente impeccabili, ma che mostrano tutta una serie di incongruenze nel momento in cui li si analizza. Chiaramente queste vengono spesso utilizzate come espediente con l'intento di ingannare chi ascolta e convincerlo della ragione di chi parla. Non a caso le possiamo trovare spessissimo nei ridicoli discorsi e dibattiti che contraddistinguono la scena politica. Sono come delle trappole che possono coglierci la sprovvista e condurci verso strade argomentative erronee, impedendo alla conversazione di progredire con la dovuta sensatezza. Ad esempio, quando si utilizza un'apparente connessione causale fra due eventi per sostenere un argomento, ma in realtà non vi è alcuna prova di una vera connessione causa-effetto, siamo di fronte a un'evidente fallacia. Prima di addentrarci in alcuni esempi di sofismi piuttosto comuni, che ci aiuteranno a comprendere meglio la loro stessa natura e a riconoscerli quando li incontreremo nei discorsi o nei dibattiti, penso che sia importante capire le motivazioni che ci impediscono di individuare la loro presenza. Eccovi quindi tre motivi per cui spesso non ci accorgiamo delle fallacie. Quando le informazioni ci vengono presentate molto rapidamente, magari cambiando anche il discorso con una certa frequenza, può risultare difficile per gli ascoltatori elaborare correttamente il senso di ciò che ci viene detto. E ciò può portare a perdersi dei pezzi di discorso, può concentrarsi troppo sulle parole, il ritmo, l'intonazione o il modo di parlare, impedendoci di rimanere saldi su un'analisi critica delle argomentazioni. Inutile dire che nella stragrande maggioranza dei casi, questa è una tecnica di distrazione voluta proprio dalla persona che vi sta parlando. Quando le affermazioni vengono presentate rapidamente e con dei modi di fare molto sicuri, uniti a certi tipi di intonazione o modi di esprimersi, queste possono effettivamente risultare più convincenti. Pensate ad esempio a come parlano i politici o i bravi venditori. Ecco, in questi casi gli ascoltatori possono essere influenzati da queste tecniche, accettando più facilmente le argomentazioni senza metterle in discussione. Quando si parla di bias, che non vanno confusi con le fallacce stesse, ci si riferisce a delle distorsioni nella percezione o nell'interpretazione delle informazioni. Ad esempio, il famosissimo bias di conferma si verifica quando tendiamo a cercare o interpretare le informazioni in modo da confermare le convinzioni che già abbiamo, ignorando o respingendo tutto ciò che le contraddice. Nel corso del tempo si è arrivati a individuare decine, se non centinaia, di fallacce logiche. Ma nel video di oggi ci concentreremo solo su dieci fra le più comuni e insidiose. In descrizione vi lascio comunque alcune risorse per poter approfondire l'argomento in maniera indipendente. Stroman Argument, detta anche fallaccia dell'argomento fantoccio. Consiste nel rappresentare un argomento in maniera distorta o completamente inventata, al fine di smontarlo più facilmente. Per mettere in atto questa fallaccia c'è bisogno che in una discussione basata su un argomento A, una persona sostituisca quell'argomento con un nuovo argomento B, che risulta apparentemente simile. In questo modo la discussione si sposterà sull'argomento B e l'argomento A non verrà trattato. Facciamo un esempio. Si sta parlando di liberalizzare la cannabis a scopo ricreativo e qualche genio se ne esce fuori con frasi del tipo Perché nessuno pensa ai bambini? A quel punto una persona attenta e soprattutto normodotata si renderebbe subito conto che i bambini non c'entrano assolutamente una fava e che si tratta solo di un goffo tentativo per spostare focus del discorso. Fallaccia del terreno sdrucciolevole. Consiste nel sostenere che un dato evento porterà inevitabilmente ad una conseguenza estrema, senza però fornire prove o spiegazioni del nesso causale fra l'evento iniziale e la conseguenza ipotizzata. Con questo meccanismo non si discute dell'evento X in sé, ma si sposta il focus su una sua ipotetica conseguenza. Per fare un esempio in linea col precedente, Una delle tante argomentazioni da quattro soldi dei provezionisti è che l'ipotetica legalizzazione di una sostanza come la canapa porterebbe inevitabilmente ad una società di eroinomani. WTF? Argomento ad hominem. Si tratta di una fallacia che prevede un attacco o una critica alla persona che sostiene un'idea e non all'idea in sé. Si tenta di screditarla o di minare la sua credibilità. In questo caso direi che non abbiamo bisogno di esempi particolari. Fallaccia dello scommettitore. È un errore logico riferito all'errata convinzione che eventi del passato possano avere influenza su eventi futuri nell'ambito di dinamiche puramente casuali, proprio come nel gioco d'azzardo. Ad esempio, se la roulette esce il nero per 5 volte di fila, e in virtù di ciò ritengo più probabile che al prossimo giro esca il rosso, sto incappando in questa fallacia. Fallaccia del carro dei vincitori. Consiste nel sostenere la validità di una certa idea o azione solo perché questa è estremamente popolare. In altre parole, si ritiene che qualcosa sia vero per il solo fatto che molti altri credono alla stessa cosa. Anche in questo caso non credo sia necessario alcun tipo di esempio. L'appello all'autorità. Consiste nel sostenere una tesi facendo riferimento a qualcuno di autorevole, invece di fornire prove o argomenti validi. Un esempio lampante di questo sono i complottisti che si appellano a Luc Montagnier per dare autorevolezza alle loro idiozie. Per intenderci, Montagnier vinse il Nobel per la scoperta dell'HIV, ma poi ha iniziato a dare di matto, sostenendo le più becere tesi del complotto. Segno inequivocabile del fatto che vincere un Nobel di per sé non significa nulla. L'appello alla natura. Questa fallacia si verifica nel momento in cui si sostiene che un qualcosa sia meglio di qualcos'altro poiché ritenuto naturale. Questo tipo di ragionamento implica l'idea che tutto ciò che è naturale sia automaticamente migliore di quello che è, ad esempio, artificiale. Questo tipo di ragionamento implica l'idea che tutto ciò che è naturale sia automaticamente migliore di tutto quello che, ad esempio, è artificiale. Ad esempio, ritenere che la carne coltivata faccia male poiché creata in laboratorio è una cazzata gigante. L'appello emotivo. Questa la conosciamo tutti quanti molto bene. Consiste nel manipolare l'interlocutore facendo leva sui suoi sentimenti, senza però entrare nel merito dell'argomento. Un esempio, i nostri genitori che da piccoli ci dicevano che in Africa i bambini morivano di fame perché noi non volevamo mangiare. Fallacia aneddotica. Questa si verifica nel momento in cui si utilizzano aneddoti personali per trarre conclusioni generiche su un argomento. Ritenere che le sigarette non facciano male perché tuo nonno ha fumato un pacchetto al giorno fino a 92 anni non è un argomento valido. Reductio ad Hitlerum. Questo errore logico si verifica nel momento in cui si tenta di respingere o sminuire un argomento, paragonandolo a qualcosa di associabile al nazismo o a Hitler. Questa fallacia cerca di utilizzare l'associazione negativa per respingere un'idea senza doverla affrontare nel merito. Un ottimo esempio di questo l'abbiamo visto quando i Novax si permettevano di paragonare il Green Pass agli strumenti utilizzati per identificare gli ebrei. Una cafonata incommentabile proprio. Ora che abbiamo visto alcuni fra gli errori logici più comuni, concentriamoci rapidamente su come poterli individuare nei discorsi, per poi avviarci verso la conclusione del video. La prima cosa da fare per non farsi prendere in giro quando si discute o si ascolta un dibattito è prestare attenzione. Che può sembrare una banalità? In un mondo ideale lo sarebbe anche, ma in verità si tratta di un qualcosa che ci risulta molto difficile. Anche perché molti studi hanno dimostrato come nel corso degli ultimi anni la nostra soglia dell'attenzione si è diminuita drasticamente. Bisogna quindi prestare molta attenzione ai discorsi e alle affermazioni che vengono fatte, cercando di individuare eventuali argomentazioni deboli o presunte connessioni causali non sopportate da prove concrete. Un'altra buona pratica è quella di cercare di capire quando viene fatto uso di sentimenti ed emozioni per tentare di manipolare l'opinione di chi ascolta. In quel caso è molto probabile che vi siano anche dei tentativi di sviare gli argomenti, spostando il focus del dibattito su argomenti che risultano molto più comodi alla persona che sta parlando. In ultimo, è assai importante mantenere sempre un atteggiamento critico. Quando si ascolta o legge un discorso, è buona pratica rimanere vigili e con un certo grado di scetticismo. Perché accettare automaticamente tutto ciò che ci viene detto come se fosse una verità assoluta, senza prima valutare la validità e la coerenza degli argomenti, ci porta inevitabilmente a farci fregare da persone più astute di noi. Bene, ora che avete un quadro generale sulle principali insidie che dobbiamo affrontare ogni giorno e che siete conseguentemente più consapevoli delle principali tecniche utilizzate per manipolarci, potete ringraziarmi con un mi piace, un commento, una condivisione e perché no, un'iscrizione al canale. Ma non solo, infatti io consiglio sempre anche di vedersi altri miei video sempre legati a tematiche quali il ragionamento e la crescita personale. Inoltre, se volete supportare il mio lavoro, sappiate che in descrizione avete la possibilità di farlo in maniera concreta, economica, pecuniaria. Trovate infatti due link. Uno vi riporterà il mio PayPal dove potrete farmi una donazioncina della cifra che preferite. L'altro invece vi riporterà ad Amazon, con il quale io sono affiliato, quindi sappiate che se passate dal mio link ogni volta in cui dovrete fare un acquisto, io riceverò una piccola quota sul vostro acquisto senza che voi dobbiate spendere neanche un centesimo in più. semplicemente Amazon deciderà di devolvere una parte del suo guadagno direttamente al sottoscritto. Detto questo noi ci rivediamo settimana prossima sempre qua su questo canale con un nuovo video. Un caro saluto! Un caro saluto!